Ben trovati alle TG7 Basilicata. Questa mattina a Potenza è avvenuto un incidente stradale intorno alle ore 7 all'incrocio tra via Ciccotti e via Piemonte coinvolti due veicoli di cui una Renault Clio, un furgoni alla guida dell'autovettura, un 55 anni, è rimasto fortunatamente illeso, mentre alla guida del furgoni un ragazzo di 24 anni che ha riportato alcune ferite che hanno richiesto il trasporto presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Tempestivo l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco. Andiamo avanti. I carabinieri della stazione di Tramuto l'hanno deferito all'autorità giudiziaria un sessantenne del posto già noto alle forze dell'ordine, gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed altro provvedimento cautelare. Costui aveva richiesto il reddito di cittadinanza omettendo di comunicare proprio queste informazioni, tra l'altro dovute per cui si è stabilito che ha percepito illecitamente la somma complessiva di 4.500 euro. I militari della stazione di Bella hanno denunciato all'autorità giudiziaria un sessantenne del posto che è in questo momento detenuto in quanto aveva richiesto il reddito di cittadinanza omettendo di comunicare notizie necessarie come il suo status giuridico. Pertanto è risultato dagli accertamenti che ha ricevuto indebitamente la somma di 3.400 euro. I carabinieri della stazione di Sanfele hanno deferito all'autorità giudiziaria una donna già residente in quel comune, una 47enne di origini straniere, trasferitasi in altra località che ha dichiarato falsamente di essere in possesso dei titoli previsti dalla norma, ovvero l'essere residente anagraficamente in Italia da almeno dieci anni, per cui ha percepito anche lei questo reddito indebitamente per una somma complessiva di 1.380 euro circa. Naturalmente i tre casi descritti sono analoghi e per questo è stata informata la competente direzione provinciale IMSS per i conseguenti provvedimenti di competenza. L'amministrazione comunale di Avigliano e l'assessorato alla cultura e l'associazione politiche giovanili, dopo una serie di concerti in rete realizzati con la collaborazione di associazioni e artisti locali, ha deciso di promuovere l'opera poetica di Mara Sabia attraverso il suo ultimo volume, Le strade del bacio. La lettura di alcuni componimenti tratti dal sillogio è stata organizzata in un luogo particolarmente suggestivo di Avigliano, il Belvedere. Il video sarà diffuso domani alle ore 17 sui canali Facebook e YouTube del comune di Avigliano. Io come ogni sera vi ringrazio naturalmente per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi do appuntamento a domani.